Incidente mortale a Scodovacca di Cervignano lungo la Statale 14 a perdere la vita Luciano Bressanex, promotore finanziario di Terzo d'Aquilei, ha perso il controllo della sua auto finita contro un ponte poi nel fosso. La famiglia non le consentiva di sposare un italiano, per questa ragione Berta Pocest avrebbe organizzato il triplice omicidio a Debar, lo riporta un quotidiano macedone, intanto non si trova l'arma del delitto. Sfilata di VIP per il taglio del nastro della 24esima edizione di Friuli Doc, Antonia Klugman, Mara Navarri e Matteo Restivo, la Kermes prenderà il via giovedì 13, sono 150 gli stand dei chioschi. Secondo le rivelazioni del settimanale chi nel cuore di Flavio Briatore ci sarebbe la Instagrammer Udinese Taylor Mega, la giovane sui social fa incetta di mi piace. L'Udinese di quest'anno incuriosisce, stiamo già iniziando a pensarci, a dirlo Maurizio Trombetta, collaboratore tecnico della Juve che ci ha parlato anche del volto umano di Ronaldo. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Iniziamo subito con la cronaca, con un incidente mortale accaduto a Scodovacca di Cervignano. Un uomo di 76 anni, ex promotore finanziario di Terzo d'Aquileia, ha perso il controllo della sua vettura che è finita prima contro un ponticello e poi nel fossato. Il servizio. Incidente mortale nella notte a Scodovacca di Cervignano del Friuli. Un uomo di 76 anni, residente a Terzo di Aquileia, Luciano Bressan, ha perso la vita mentre stava rientrando a casa dalla moglie. Era al volante di una Peugeot 206 quando ha perso il controllo del veicolo, finendo prima contro la spalletta di un ponticello e quindi dentro a un fossato. Non è ancora chiaro a che ora sia accaduto l'incidente. La Peugeot infatti è stata notata solo questa mattina, presto, intorno alle 7 da un'automobilista di passaggio. È stato lui a dare l'allarme facendo correre sul posto il personale sanitario della Croce Verde, Basso Friuli e Cervignano e un'automedica proveniente da Gradisca. Sul posto la polizia stradale di Udine e il vigile del fuoco del distaccamento di Cervignano. Non si esclude che le cause della fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri mezzi possono essere ricondotte a un malore. L'uomo che aveva fatto il promotore finanziario lascia anche due figli. Vicinanza alla famiglia in questo grave momento di luto è stata espressa dal sindaco Michele Tibalde. A nome di tutto la comunità. Gli inquirenti stanno passando al setaccio i conti bancari e postali della famiglia sterminata in Macedonia. In Friuli si indaga a 360 gradi sul movente che ha armato la mano di Blerta Pocesta, la 28enne che ha sterminato genitori e sorella. Si punta sulla pista economica anche se i media macedoni parlano anche di un matrimonio negato come possibile origine di questo triplice omicidio. Blerta Pocesta, la giovane macedone arrestata con altre due persone con l'accusa di essere responsabile dell'uccisione del padre, della madre e della sorella minore, avrebbe organizzato il triplice delitto perché la famiglia non le consentiva di sposarsi con un italiano. A riferirlo è il quotidiano macedone in lingua albanese Coha. Non mi permettevano di sposare un italiano, scrive il giornale, citando la donna 28enne per la quale i giudici macedoni, analogamente agli altri due sospettati del delitto, ha disposto per ora 30 giorni di carcere. Blerta, secondo il Coha, ha ammesso di aver organizzato la strage familiare, negando tuttavia di essere stata lei immaterialmente a sparare e a uccidere i genitori e la sorella. E intanto la squadra mobile della questura di Pordenone sta continuando a indagare, coordinata dalla procura anche sul movente. Diversi sono gli accertamenti in corso, per quanto riguarda l'arma del delitto non ancora trovata, gli inquirenti ritengono che non si trovi in Italia. Blerta, infatti, era rientrata in friuli dopo il delitto e avrebbe potuto portare con sé la pistola. Il suo ritorno in volo, però, col passaggio sotto i metal detector in aeroporto, porterebbe a escludere questa possibilità. Resta quindi il mistero su dove si trovi e dove possa essere stata occultata l'arma da fuoco usata per il triplice omicidio. Secondo i media macedoni, Blerta Pocesta faceva uso di droghe e in Italia era registrata come tossicomane. Raffica di infortuni sul lavoro, in fabbrica, in cantiere. Questa è altra notizia in pillola nel prossimo servizio. Raffica di infortuni sul lavoro. A San Daniele, in un prosciuttificio, un operaio è stato colpito da un pannello durante le fasi di scarico di un camion ed è stato portato in ospedale in condizioni serie. Infortuni anche alla Pelfa, gruppa SRL di Buia, dove un altro operaio è finito in pronto soccorso dopo essere rimasto vittima di una caduta dall'alto. A Palmanova, un uomo di 43 anni di faete stava montando degli infissi in un cantiere privato quando una sezione in alluminio, gli è caduta su una gamba procurandogli un taglio. Un escursionista si è fratturato una gamba mentre stava percorrendo il sentiero che porta a Casera Valbertad, nel comune di Paolaro. È stato soccorso dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino. Dipendente e infedele è pizzicato a rubare nell'azienda in cui lavora. Finire nei guai è denunciato dai carabinieri di Fontana Freda, un 53enne di Meduna di Livenza. L'uomo ha trafugato dai locali di un'azienda di Soccida diversi rubinetti e alcuni faretti per un valore di circa 800 euro. Da tempo l'operaio era tenuto d'occhio per i suoi comportamenti sospetti. Davanti ai militari ha ammesso le sue responsabilità. È sempre i carabinieri, ma della stazione di Prata di Pordenone stanno indagando per capire chi abbia rubato giocattoli e premi destinati agli scaffali della pesca di beneficenza della festa organizzata dalla Proloco di Villanova di Prata. Il danno è di 600 euro. Ruba ha indisturbato nove bottiglie di superalcolici in un market, ma la Polizia di Stato lo scopre e lo denuncia. A finire nei guai è un cittadino romeno di 41 anni senza fissa dimora che si è presentato alla cassa per pagare una bottiglia d'acqua dopo aver sottratto superalcolici per 120 euro e averli nascosti in una borsa. Il tentato colpo invia Pirano a Trieste. Le guardie zoofile dell'OIPA di Udine hanno liberato dieci cani costretti a vivere in gabbia. Erano detenuti tutti nella stanza di ingresso della casa, ognuno recluso in gabbie vecchie a rugginite, che è nello trasportini in plastica, senza la possibilità di bere, muoversi o distendersi completamente. Questa è la vita di dieci cani, di cui otto pastori belga malinois e due pastori croati, che sono stati liberati dalle guardie zoofile dell'OIPA di Udine, intervenute in seguito a una segnalazione che indicava un intenso e insistente abbaiare proveniente da un'abitazione nella bassa friulana. Purtroppo non è la prima volta che interveniamo per liberare animali che vivono la loro vita in gabbia perché ingombranti o per salvaguardare gli oggetti di casa, dichiara Edoardo Valentini, coordinatore del nucleo guardie eco zoofile dell'OIPA di Udine. Fortunatamente, prosegue, una volta liberati, tutti i dieci cani si sono dimostrati equilibrati, di indole socievole e positivamente relazionati all'uomo, non dimostrando alcun atteggiamento aggressivo. Per i proprietari è scattata la denuncia per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, secondo l'articolo 727 del codice penale. I cani, invece, sequestrati sono stati portati presso il canile convenzionato in attesa di trovare famiglie che possano dare un'esistenza finalmente senza sbarre. Andiamo a Udine per parlare di spaccio di droga in centro, dove la polizia ha arrestato un cittadino pakistano che ha cercato di lanciare la droga in strada per liberarsi di un etto di sostanza stupefacenti. Nei guai anche un giovane richiedente asilo. Vede la polizia e lancia un pacchetto in strada, tentando poi di scappare. Gli agenti recuperano il plico e scoprono che si tratta di un panetto contenente droga, poco meno di un etto di hashish. A tentare di liberarsi della sostanza, nella giornata di ieri, in centro a Udine, è stato un cittadino pakistano di 37 anni che è finito in carcere, arrestato dagli agenti della squadra mobile per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Lo straniero era stato già espulso dall'Italia e sempre ieri gli uomini delle volanti hanno cercato di controllare un altro pakistano, un 25enne che gode della protezione internazionale. Anche in questo caso il ragazzo ha lanciato un pacchetto in strada. Al suo interno c'erano alcuni grammi di hashish e di cocaina. Al pakistano, denunciato a piede libero, sono stati sequestrati anche contanti per 65 euro, denaro ritenuto provento di attività di spaccio. Diverse scuole di Udine, sia elementari che medie, sono interessate o lo saranno presto da lavori di manutenzione che dunque avverranno anche ad inizio anno scolastico. Ma il comune rassicura le famiglie, non ci saranno disagi le lezioni, si svolgeranno regolarmente. Tutte le scuole di Udine apriranno regolarmente le porte il 10 settembre. Nessuna chiusura per lavori come paventavano alcuni genitori. In effetti c'è un programma comunale dell'edilizia scolastica che prevede diversi interventi, ma nessuno è urgente e soprattutto nessuno comprometterà la frequenza regolare delle lezioni, garantisce il vice sindaco del comune di Udine, Loris Michelini. Partiamo dalla scuola secondaria di primo grado a Ellero di Via Divisione Giulia. Sono già in corso lavori, ma non creeranno danni agli studenti che potranno seguire regolarmente le lezioni. Proseguendo con le medie partiranno in ottobre i lavori alla Manzoni di Piazza Garibaldi, ma riguarderanno soltanto l'Aula Magna. Per quanto riguarda le primarie, la Zoruti di Via 30 Ottobre e la Boschetti Alberti di Via Baltasteria Media dovranno essere adeguate alla normativa antincendio, ma dal prossimo anno. Alla primaria Rodare di Via Valresia è previsto rifacimento del pavimento della palestra, mentre alla Girardini di Via Iudro sarà fatta la mensa nel piano interrato. In entrambi i casi le lezioni continueranno regolarmente. Saranno interessate a lavori di manutenzione anche la primaria Pascoli di Via Pordenone e la media Fermi di Via Pradavano. Per prima, spiega Michelini, penseremo alla Pascoli. È una scuola grande e non volendo creare problemi agli alunni vorremmo mettere a posto un edificio in centro, al momento non utilizzato, che possa fare da scuola a sfogo. Se ne parlerà però il prossimo anno, dato che al momento, spiega Michelini, dobbiamo ancora mettere insieme i soldi necessari. Restiamo a Udine per parlare del taglio del nastro di Friuli Dock, che è fissato per giovedì prossimo, 13 settembre. Intanto oggi, sotto la loggia del Lionello, sono stati svelati alcuni ingredienti di questa edizione della Kermess. La riapertura degli stand in Via Quileia, il ritorno della delegazione della Stiria, è la celebrazione delle eccellenze friulane, dalla cucina con la chef Antonia Klugman, allo sport con Mara Navarria e Matteo Restivo. Sono state svelate tutte le ultime sorprese per la 24esima edizione di Friuli Dock, la Kermess in una gastronomica di Udine, in programma tra le vie cittadine, da giovedì 13 a domenica 16 settembre. Taglio del nastro le 17.30 in Piazza Libertà, proprio con i due atleti medagliati e la chef stellata. Ha fatto conoscere la nostra regione grazie alle sue capacità ristorative, ma soprattutto perché è anche un personaggio televisivo, perché è stata la prima giudice donna di Masterchef, quindi questo può diventare un ulteriore elemento di richiamo per questa manifestazione, quindi dobbiamo ringraziare lei come testimonia, come anche i nostri campioni dello sport, perché avere dei giovani che portano e tengono in alto il nome di Udine e del Friuli in tutto il mondo. Il tema scelto per la 24esima edizione è Buon Cibo, Grandi Virtù, che sarà rappresentato in tutti gli stand della manifestazione, oltre 150 sparsi per tutta Udine. I Aquilei a Ritone sarà la grande novità di quest'anno con la presenza, come dicevo, dello stand della Stiria, ma poi saranno interessate in particolare con la Confartigianato, tutta via Vittorio Vento, e non solo Confartigianato perché siano anche degli stand dell'enogastronomia, e poi ci sarà tutta l'area qua di via Mercato Vecchio, piazza Matteotti, piazza Venerio, anche piazza Duomo, anche se con qualche limitazione quest'anno per via di Palazzo Eden, e quindi diciamo che ci sarà il perimetro classico di Friuli Do, quest'anno esteso su via Aquileia. Ed emozionato si è detto Pietro Fontanini, che appunto parteciperà per la prima volta da sindaco di Udine all'edizione Friuli Doc. Sindaco Friuli Doc, un bene della città di Udine che però rappresenta tutto il Friuli. Sì, rappresenta tutto il Friuli perché qui arrivano tutte le proloco friulane a far assaggiare i prodotti che sanno cucinare in maniera egregia. Oltre a questi alimenti tipici del nostro territorio ci sono anche i vini, grandi vini friulani, che potranno essere assoggiati con intelligenza in questa festa. C'è purtroppo qualcuno che esagera, però Friuli Doc è anche il luogo dove si possono veramente assaggiare specialità della terra friulana. Non è solo in gastronomia perché saranno celebrati anche alcuni importanti trionfi dei friulani come Mara Navarri e Matteo Restivo. E siamo orgogliosi quando questi nostri sportivi raggiungono ottimi risultati di farli conoscere e di farli diventare anche testimonia di questa festa. È una grandissima occasione per la città di Udine ma per l'intera regione per valorizzare tutte quelle che sono le ricchezze. Non solo quindi in gastronomia, non solo turismo, ma storia, arte, sport, attività produttive perché gli artigiani si adoperano in maniera importante per questa iniziativa. È una vetrina importantissima per l'intera nostra regione. Io dico sempre alzate gli occhi, guardatevi, passeggiate per la nostra città, per la nostra regione. Abbiamo delle bellezze inimitabili, ineguagliabili. Dobbiamo imparare, lo sto dicendo da ora, a vendere. Lo si è fatto, lo si è fatto con un po' di timidezza. Noi dobbiamo incominciare a guardare il turismo con gli occhi dei turisti. Cosa vuole il turista? Noi dovremmo essere in grado di darlo. E l'assessore regionale Zanier ha incontrato i produttori friulani di mele. Come ormai tradizione, tra i filari di Chiasielis, la prima mela friulana del raccolto 2018 è stata accolta dall'assessore regionale Stefano Zanier. Si è così tenuto, nell'azienda Pomis, l'incontro con gli stakeholder del settore melicolo, produttori, distributori, rappresentanti delle istituzioni, dell'ERSA, degli operatori bancari, dei fornitori di servizi. A fronte di un raccolto che si preannuncia di ottima qualità, durante la serata sono stati affrontati sia problemi del settore, sia opportunità. Zanier, in particolare, ha chiesto un cambio di mentalità ai produttori, ovvero di guardare il proprio appezzamento come una vera impresa di un qualsiasi settore economico, in cui conta l'analisi di mercato, l'efficientamento produttivo, la pianificazione commerciale. In sostanza, non produrre e poi cercare di vendere, ma interpretare con profitto le evoluzioni del mercato. Un assist che i produttori di Mela Iulia, guidati da Peter Larker, hanno colto al balzo, presentando l'ultima novità, un'innovativa linea di mousse di mela in purezza oppure ricchite con fragola, kiwi, mirtilli o pera. Il packaging è biodegradabile, con tappo antisoffocamento. Pensato in particolare per bambini sportivi, sarà presente nei prossimi giorni nella rete dei distributori automatici di CDA e nelle mense gestite da PF Group. Infine, innovativo anche il nome, in quanto vuole portare la Marilenge, nel resto d'Italia e anche all'estero. Si chiama infatti Mirinde. Dato il successo della prima edizione, Anci e Aicre hanno inaugurato la seconda edizione della Summer School per amministratori locali a Ravascletto. Cinque giorni di lezioni sul buon governo del territorio, a cui hanno aderito 29 amministratori, con presenze anche da Veneto e Alto Adige. Ha raccolto adesioni da tutta la regione, ma anche da Veneto e Trentino e Alto Adige, la Summer School per amministratori locali, organizzata da Anci, Aicre, OX e Informest, con l'obiettivo di formare i nuovi amministratori sui temi dello sviluppo e del territorio. Nei cinque giorni di formazione a Zovello di Ravascletto si alterneranno lezioni frontali, lavori di gruppo, analisi e testimonianze di casi virtuosi. Ecco, questa seconda edizione della Summer School cerca di partire dalla base, cioè dalla formazione degli amministratori per aiutarli ad avere questo approccio, questa mentalità, guardando con interesse l'Europa, perché l'Europa offre davvero tante occasioni e non si possono sprecare. I comuni devono guardare innanzitutto i vicini e cercare di costruire assieme un progetto di sviluppo per la propria comunità e per il proprio territorio. Ritengo questa una straordinaria opportunità che è concessa agli amministratori locali di acquisire un bagaglio in materia di strategia e sviluppo territoriale. Sicuramente sono temi difficili, diciamo, da seguire per degli amministratori di piccoli comuni, però sono anche temi che riguardano il nostro futuro e quindi, ripeto, questa è un'occasione fondamentale per acquisire quelle conoscenze necessarie per sviluppare politiche nel prossimo futuro. La FEDS si prepara a festeggiare il sessantesimo di fondazione con una serie di manifestazioni che anticiperanno il congresso in programma a Udine il 23 settembre. Dopo anni di calo continuo, le donazioni stanno nuovamente crescendo grazie all'aumento degli iscritti che nei primi sei mesi del 2018 sono stati 1097 contro i 947 del 2017. In Friuli frena l'andamento in picchiata delle donazioni di sangue. Dopo il meno 6,4% del 2017, nei primi sei mesi di quest'anno il calo è del 2,59%. Ma il presidente dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue, Roberto Flora, è convinto che entro la fine del 2018 ci sarà un ulteriore recupero. L'associazione intende infatti incrementare l'uso dell'auto emoteca alla luce dei risultati raggiunti grazie alla raccolta diretta sul territorio con le donazioni programmate. Abbiamo puntato sul maggiore impiego dell'auto emoteca, spiega Flora, non solo per far conoscere la FDS ma soprattutto per facilitare l'approccio al dono. L'associazione a tal proposito ha predisposto un'app che consente ai donatori di essere aggiornati sulle problematiche e sulle eventuali necessità di sangue e di effettuare direttamente le prenotazioni senza rivolgersi al CUP regionale per scegliere il centro trasfusionale che è più facilmente raggiungibile. Grazie a queste innovazioni nei primi sei mesi dell'anno i nuovi donatori sono stati 1097 contro i 947 dello stesso periodo del 2017. In auto emoteca le donazioni sono state 2.551 contro le 2.140 dello scorso anno. L'associazione si appresta a festeggiare il sessantesimo anno d'attività con cinque appuntamenti che anticiperanno il congresso in programma Udi nel 23 settembre. E prima di passare alla pagina sportiva un pizzico di gossip ci sarebbe una friulana nel cuore di Flavio Briatore. Secondo alcune indiscrezioni di stampa Briatore tornato scapolo d'oro dopo la fine del matrimonio con Elisabetta Gregoraci avrebbe un nuovo amore e si tratta della influencer udinese Taylor Mega. Sui social la giovane fa incetta di click su Instagram a oltre 800.000 followers. Due personaggi che secondo le rivelazioni del settimanale Ki farebbero coppia fissa sui social non fanno cenno alcuno all'esistenza di un fidanzato o di una fidanzata. Lui, 64 anni, posta foto del figlio Nathan che nuota spensierato in una lussuosa piscina a bordo di un'altrettanto lussuosa barca e poi cena e pranzi di gruppo con amici al billionaire da Fedez a Rovazzi da Albano a Manuela Arcuri fino all'amico Silvio Berlusconi. Lei appare in varie pose che mettono in risalto il fisico che non passa inosservato. Insomma, al momento i due mantengono il più stretto riservo e ai fanatici del gossip di fine estate non resta che attendere la smentita o la conferma ufficiale. Di sicuro Briatore è tra i follower di Taylor Mega in realtà segue anche diverse sue ex dai di Klumanomi Campbell fino al suo ultimo amore Elisabetta Gregoraci. Ed ora appunto siamo allo sport mi auguro che Velasquez possa seguire le orme di Zaccheroni e Spalletti tecnici che hanno stupito e fatto grande l'Udinese. L'auspicio di Maurizio Trombetta collaboratore tecnico della Juventus che abbiamo incontrato all'evento gente come noi a Fagagna. Gli abbiamo chiesto anche di raccontarci di Cristiano Ronaldo. Lo stile udinese comunque è ben riconoscibile. Chiaro non ci sono più le qualificazioni in Europa non sempre è facile arrivarci ci sono stati gli anni di Spalletti e Guidolin Zaccheroni Spalletti e Guidolin che hanno portato a un livello fantastico per Udine mi auguro che tornino presto mi auguro che Velasquez sia l'allenatore che può seguire le orme di questi allenatori che ho detto. Da fuori come viene percepita la nuova Udinese? Come al solito come una realtà particolare perché ci sono sempre tanti giocatori che magari all'inizio anno sono sconosciuti e poi invece si rivelano di alto il profilo per cui come una squadra comunque pericolosa oltretutto quest'anno ci giochiamo abbastanza presto per cui è una di quelle che già cominciamo a tenere un po' d'occhio. Se n'è andato Buffon è arrivato Cristiano Ronaldo e non posso non chiederti di lui perché raccontaci chi è e come mai non segna ancora? Come mai? È casuale nel senso che le occasioni ce le ha sempre per quello che riguarda invece l'aspetto meno di campo posso dire che è un ragazzo sorprendentemente semplice per quello che è il personaggio un ragazzo che pur avendo vinto cinque palloni d'oro è venuto e si è messo a disposizione come tutti i campioni che sono alla Juve per cui disponibile e volenteroso. In Danimarca è scontro tra la federazione e i calciatori merito all'accordo sui contratti di sponsorizzazione. La nazionale sciopera ma la federazione ha comunque deciso che le gare in programma si disputeranno e ha convocato i giocatori di futsal. Dunque anche il bianco-nero Larsen è rientrato alla base come tutti i compagni il difensore è tornato in Friuli nella serata di ieri e da questa mattina è nuovamente a disposizione di Mr. Velasquez per lui e per la squadra oggi doppia seduta di allenamenti. Cambiamo sport perché quella di oggi è stata una splendida giornata per i colori friulani alla Vuelta Espagna firmarla il rosso di bui Alessandro De Marchi che si è imposto al termine della tappa più lunga del giro spagnolo la Montbuey-Ribera-Sacra-Luintra di 208 km con un attacco a 4 km dall'arrivo si gode un meritato trionfo terzo a 59 secondi Franco Pelizzotti il delfino di Bibione che il CT Davide Cassani ha scelto come regista azzurro per il mondiale in mezzo ai due campioni made in Friuli-Venezia-Giulia il francese Restrepo secondo a 28 secondi seconda uscita del precampionato contro una pari categoria e seconda fermazione convincente per l'APU-GSA Udine che sconfigge 82 a 68 la De Longhi Treviso a Pieve di Soligo mattatore della serata come sabato scorso a Lignano Basket contro Forlì l'americano ex di turno Powell che segna 21 punti cattura 9 rimbalzi produce 24 di valutazione riceve il premio di MVP dell'amichevole in doppia cifra tra i friulani anche Spanghero e Simpson inoltre sotto i tabelloni Pellegrino è devastante con 8 pezzi e 12 carambole sto notando una costante abnegazione al lavoro di squadra commenta coach De Miscavina in attacco siamo stati discreti mentre in difesa abbiamo avuto alti e bassi comunque il gruppo risponde e siamo molto contenti di ciò continua il coach prossimo impegno nel precampionato sabato alle 18.30 al palazzetto di via Praviolaia Gemona contro gli austriaci del Kapfenberg è prevedibile come il 28 agosto scorso contro la Virtus Padova un altro grande afflusso da parte della Pumania nell'impianto Pedemontano ebbene termina qui questa edizione del nostro telegiornale vi ricordo tra pochissimo attorno alle 19.45 uno speciale dedicato a Friuli Doc che si appresta a partire per questa edizione 2018 grazie come sempre per la vostra cortese attenzione vi auguro un buon proseguimento di serata arrivederci collegati a Telefriuli.it per seguirci in streaming e per rivedere tutte le trasmissioni per le notizie in tempo reale ilfriuli.it e udineseblog.it continua a seguirci anche sulle nostre pagine social o n a a a a a Grazie a tutti.